Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo prossimo video Io sono VittorioMaster89 E oggi siamo su Happy Wheels Ragazzi questo video può durare 5 minuti Mi dispiace però Io non ci posso fare niente E comunque ho cambiato la mia tipo lista E adesso è Lunedì Minecraft Online Martedì Peppere Pleas Martedì Mercoledì TheScapist Giovedì Happy Wheels Venerdì uno dei punto io Sabato Vlog E domenica Minecraft Non Online E questa sarà la mia definitiva Almeno che voi non mi dite Cambiala E la madonna No si è messo il cubo davanti Ehehe che prof Attenzione Signore e signori Woo Signore e signori Vai Headshot Bitch Kill to win Ah io devo killare quello Eh prendi la spada Prendi la spada Prendi la spada Prendi la spada Ah E Ah Un'esibizione fantastica Devo stare molto attento al tempo Perché questo video può durare solo 5 minuti WWE Revenge Allora ti posso dire una cosa Hai una spina nel culo Giusto per dire Slither.io Che prendiamo 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 Ciao Ciao E ora dove vado Dio scusa Aiuto Dove è la classifica qui Perché dentro ci sono io Sicuramente Ragazzi Quindi io aspetterò che si caricano gli altri video E poi continuerò a caricare i video Ma tanto a voi questi video usciranno sempre Un giorno dopo Quindi Quindi è come Per esempio Oggi è uscito il video Ma l'ho caricato ieri Capite? Però è uscito oggi Ragazzi siamo già a 3 minuti Voi non potete capire Quanto mi dispiace WWE Oh my god moment Ragazzi io questo non lo chiamerei Manco Primo episodio di Happy Wheels Facciamo proprio così Questo episodio Non lo contiamo Perché Raga WWX Stream Div 4 È bellissimo Che figo che era il segno della WWE E quello chi è? Chi è questo? Ragazzi è un tizio Sospetto E brutto Raga Quattro livelli In un episodio Mi dispiace Veramente tanto Però Non ci posso fare niente Questo video Non so manco se lo pubblico E iscrivetevi Commentate Condividete Bella ragazzi Bella ragazzi